ok quindi il crafter funziona adesso tipo no non me lo fai vedere ma se io tipo ti dico guarda questo me lo fai così e questo me lo fai così e te le metto di là ma lì mamma mia e ti dovessi chiedere 64 di questi il numero aumenta o diminuisce ma non è che magari devo fare scusa per questo no secondo me devo mettere quello però secondo me funziona in modo diverso allora packager proviamo a mettere il crafter vabbè lo mettiamo di così e poi con la french lo giriamo ok mettiamo queste qua eh eeeh raga funziona funziona mi si è semplicemente dimenticato di mettere l'importer no vabbè no vabbè raga cioè no 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 dai non può essere così bello non può essere così bello dai un due e tre un due e tre facciamo così poi speed eh dove è il crafter facciamo qui dentro cioè raga ha già finito ha già finito mamma mia ma ma dai ma dai ma sei bellissimo no vabbè ragazzi no vabbè ragazzi adesso sono impazzito ho fatto quattro stack di nnch ma voglio vedere voglio verificare con un c'è con la mia vista se funziona velocemente oppure no perché effettivamente è stato veloce però devo verificarlo per bene allora uh mamma mia allora veloce veloce però si potrebbero mettere due pattern al posto di uno ovviamente con una pattern risparmi lo spazio ma con due aumenti la velocità perché una fa una cosa e l'altra fa l'altra quindi sarebbe tipo bam 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 c'è bellissimo raga bellissimo allora io direi proporrei ovviamente perché siccome a me non piace molto avere diciamo tutti sti cavi in mezzo alle suara wows facciamo così 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 network transmitter facciamo così e receiver te lo piazzo qui al centro perché ah che stupido ho capito il perché perché praticamente è collegato vabbè possiamo fare così allora cavi non ce ne dovrebbero essere attaccati quindi dovrei poterlo staccare in tutta tranquillità molto bene raga quindi abbiamo quell'impianto che mi autocrafta le cose mamma da cioè raga voi non potete capire nella project zone 2 che cazzo di dito al culo erano questi questi crafting qua con con le stra utilities cioè era una cosa a luce assurda e allucinante allora l'ultima cosa che voglio fare ragazzuoli è l'ultimate crafting table allora per fare questa però ci servono un bel po' di cose allora il crystal line ingot lo possiamo fare anche nell'elite crafting quindi per esempio l'autocrafting table dell'elite cioè elite la possiamo tranquillamente prendere package crafter e poi package recipe holder almeno all'inizio possiamo dov'è l'unpackager mi sembra che si utilizzava si glielo autocraftiamo al volo dov'è l'unpackager eccolo qua e gli diciamo che togliamo elite crystal time ingot che il crystal time ingot me lo fai così nell'elite crafting molto bene salviamo lo prendiamo prendiamo il crafting e andiamo a piazzarci relativamente non troppo lontano da qua perché comunque si allora facciamo così dovrebbe essere in questo modo allora tra l'altro l'energia gliela possiamo dare allora l'unpackager allora aspetta facciamo le cose con ordine possiamo mettere qua il package crafter che dovrebbe essere questo però questo fa il crafting non ho capito l'autocrafting table cosa serve cioè questo dovrebbe essere non sto capendo ragazzi non sto capendo veramente allora se prima mi ha tolto non me lo spiega quello è il problema raga è che non ce lo spiega vabbè proviamo a arrivarci per diciamo per per logica qua c'è la crafting table qua c'è il package crafter e qua c'è l'unpackager come era prima praticamente quindi l'unpackager si prende uno di questi questo si prende ah vedete ok package unpackager e dovrebbe ah no 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 aspetta raga aspettate aspettate ci serve il package ok ora ora ho capito ora ho capito allora l'altra raga serve se noi vogliamo fare un autocrafting continuo degli oggetti non se vogliamo fare un autocrafting singolo quindi ci serve il package adesso eh ragazzi tutti questi cazzo di nomi purtroppo ti confondi molto in fretta non è non è così semplice allora packager ok questo lo piazziamo di qua gli diamo la crafting il crafting gli diamo questo gli diamo un po' di amore ovvero un po' di energia grazie mille vieni qua bello 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 de gasa facciamo così gli diamo energia e stessa cosa che abbiamo fatto qua gli mettiamo crafter della refined molto bene l'import con gli stack e gli speed upgrades molto well quindi se facciamo facciamo così poi con la french giriamo il tutte cose se riusciamo ad azzeccare l'angolo giusto molto bene questo lo possiamo fare così mentre l'importer lo mettiamo adeguato e poi facciamo a così molto bene molto bene molto bene ah very well poi ma in effetti perché non metterli in schiera ok questi cavi li togliamo molto bene quindi vabbè qua mettiamo il cavetto per collegare due crafter molto bene andiamo a dire al tizio guarda che con queste cose qua mi fai un lingotto di crystal time non preoccupatevi se vedete la metà degli oggetti ma ci saranno tutti all'interno della refined proviamo a richiederglieli tipo un 60 quattrino stai craftando o non stai craftando ok gli oggetti sono qua package ho fatto la stessa identica cosa scusa ender se tipo dovesse dichiarare 10 di questa no che è successo che è successo raga no mi ha lasciato mi ha lasciato minecraft no 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 vabbè riavvio il gioco raga ok raga quanto pare non puoi cliccare comunque con con il destro cioè non puoi aprire il il coso se praticamente sta craftando però quello che io non mi spiego che è bene o male la cosa è uguale qua cioè nel senso abbiamo il package crafter che è uguale package crafter l'unpackager e infine il packager packager e unpackager sono nello stesso con le stesse impostazioni no blocchi in modo disable blocchi in modo disable e ok quindi non capisco perché non funzioni perché in teoria dovrebbe funzionare allora proviamo a riprendere le crafting il crafting bla 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 questa cosa qua allora save è un elite quindi sì dovrebbe dovrebbe funzionare cioè non lo so proviamo a ridarglielo magari abbiamo sbagliato qualcosa crystal time però chiedergliene 4 ok 4 me li fa perché scusa 64 non me li stavi facendo 64 non me li fa però gli devo chiedere cioè con calma per esempio se io te ne chiedo due crafting no due crafting me li fa ma 64 no o potrei dire a lui no blocchi in modo che cosa vuol dire aspetta forse adesso me li fai no nel package me li mandi tutti assieme ok ok no c'è qualcosa cioè è strano perché comunque allora facciamo cancel all comunque l'importante è che il crystal time lui me lo sappia fare cioè se me lo sappia craftare forse perché magari mi manda tutt'assieme il ferro e quindi non riesce a processarlo per quel motivo lì un po' strano non avrei non avrei detto che funzionasse così male però vabbè chi siamo noi per giudicare allora quello che io voglio assolutamente ottenere oggi è lei perché ci potrebbe permettere di auto craftare i come si chiama i lingotti gli ultimate ingot auto craftare gli ultimate ingot raga anche se auto craftarli potrebbe essere un parolone più che altro allora innanzitutto chiediamo facciamo una sorta di auto crafting perché se non sbaglio potremmo effettivamente attaccare si potrete attaccare i crafter hanno un altro inventario in modo che lui me li mandi raga non farò mai la miniaturizzazione scordatevelo io prendo tutti gli oggetti li butto li buttare in un trashcan e mi darò l'auto craft in tempo non ne voglio ricostruire robe assolutamente assolutamente no prendiamo una chest facciamo così e facciamo così poi gli diciamo che questa me la crafta con questa poi perché scusa perché aspetta perché vedete allora bisogna un attimo vedere allora fare così vedete 223 arrivare a 223 dark block cioè black iron block tipo fare così e fare 64 poi 128 192 202 212 222 222 223 perfetto poi cosa voleva 68 slightly less slightly less 68 quindi facciamo 64 più 4 poi voleva 40 in ancient quella cosa lì quanti ne voleva scusa 40 ok poi 20 crystal time block crystal time block 20 poi 5 lit questi qua li dobbiamo li autocraftiamo di già più questa cosa qua che no li mortacci madonna santa allora erano tre stack allora black iron erano tre stack di questi più 31 poi di quelli slitti me ne mancano altri 4 ok no aspetta 192 perché 192 ascolta proviamo a vedere se funziona ultimate ah ok deve saper craftare anche le altre allora per fare questo ti manca questo poi ti manca questo poi ti manca ok raga praticamente l'unica soluzione che ho trovato per il momento è stata quella di ridurre la velocità del come si chiama del crafter perché se no in altro modo non funziona tende a mandare troppi oggetti e in poche parole lui non non riesce a fare il crafting cioè perché riceve troppi oggetti e per quello praticamente si blocca quindi andiamo in creativa ovviamente ci give una di queste non 28 miliardi e abbiamo l'ultimate crafting table ma va bene va bene va bene questa era il crafting diciamo dell'ultimate crafting table ma in realtà noi ci serve l'ultimate packager crafter che vuole per l'appunto l'ultimate crafting auto ultimate crafting table sono troppe cose allora packager quindi ultimate packager crafter l'altra l'abbiamo craftata adesso dobbiamo richiedere semplicemente il packager che dovrebbe essere più easy peasy intanto butto l'acqua la bottiglia vecchia d'acqua freschezza ultimate packager crafter mamma mia questo questo ci svolta notevolmente la faccenda perché adesso adesso ragazzotti allora innanzitutto noi possiamo effettivamente importare tutte le singolarità perché tanto bene o male stiamo usando risorse di questo posto quindi effettivamente non ha senso che noi non andiamo a sfruttare tutte le singolarità cioè ad andare ad accumularle quindi cosa facciamo ragazzotti cosa facciamo cosa facciamo ender chest proprio così semplice 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 pipe una bella vincettina in realtà non abbiamo bisogno di eventuali upgrade facciamo così molto benissimo facciamo così dall'altra parte molto molto well questa dovrebbe essere quella di richiamo iniziamo a mandare via alcune singolarità molto bene ho detto mandare via non tipo infischiarcene ecco qua perché fare questa cosa per il semplice motivo che adesso possiamo mandare in autocrafting tutte le cose quasi tutte le cose diciamo della come si dice ah ma tra l'altro Polonio come siamo messi 104 di Polonio raga 104 ma ragazzi ma è bellissima questa cosa il fio è finito quindi tipo non crea nessun tipo di problema per quanto riguarda le radiazioni purtroppo raga o ne mettiamo di più di questi perché effettivamente l'uranio hexaflorite se non sbaglio non sta dando nessun tipo di problema mentre tutte le altre cose no vabbè possiamo lasciarlo così tanto per il momento non abbiamo bisogno di così grandi quantità di Polonio quindi ragazzuoli cari ragazzuoli ragazzuoli cari andiamo a prendere la nostra bellissima package recycled questa teoria la possiamo anche lasciare non non da fastidio a nessuno le mettiamo qui dentro andiamo al secondo slot facciamo ultimate ma questo io lo devo lasciare ultimate prima mettere save ultimate crafting ok non è frega niente molto bene quindi se io voglio l'ultimate ingot no che è quello che ci ha rotto le balle assolutamente no save lui vuole tutti questi lingotti compreso il crystal time ora se io dovessi togliere queste recipe metterne una qui una qui venire qua dire che l'ultimate ingot lo faccio con tutti i stili ingotti e andare a metterlo qui dentro ora io posso richiedere effettivamente un ultimate ingot missing a cazzarola allora il solium ok non abbiamo l'autocrafting di alcuni e quindi ci può stare ci può stare perché effetti ok questa non interessa ma l'altra spona nel mondo vero cos ok questo è un crafting normale scusate ragazzi ma sto un attimino scioccato solium ora il solium ingot si fa così è un po' una rottura di coriandoli per il resto dovremmo avere tutto tranne questo coso qua molto bene rimettiamo in autocrafting tutto quanto l'ultima cosa che ci manca è il elforged qualcosa questo lingotto qua che si tiene dalla demonite sneak right click con un golden pickaxe in uno stone block ora ragazzi io questo non l'ho autocraftato però effettivamente possiamo fare allora qua c'è il demagnetizer quindi user exporter ora io non so se ho l'autocraft in del golden gold pickaxe no sinceramente ho paura a farle queste cose raga perché sono stati motivo diciamo di perdita di mondi quindi ho molta paura ho molta molta troppa paura raga troppa troppa proviamoci vediamo vediamo se funziona oppure no quindi lui vuole su un blocco di stone il gold pickaxe e quindi non dovrebbe essere un problema tra l'altro potrei farlo direttamente ok ragazzotti allora abbiamo tutto pronto tutto 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 pronto da questa roba la possiamo buttare così facciamo così e dovrebbe funzionare allora per non sbagliare diciamo che lavora solo con segnale di redstone ok quindi lui non sta più esportando poi facciamo backup ftb backup start ok ora diciamo che può anche andare a farsi fottere ok quindi demonite togliamo 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 facciamo u non c'è un modo per duplicarlo vero no devo per forza di cose cuocerlo va bene no problem no problem amico concludiamo con questo raga concludiamo con questo perché sennò diventa un po' troppo grande la puntata very good quindi se io ti chiedo adesso un ultimate ingot tu dovresti poterlo craftare vediamo vediamo se la magia si compie tra l'altro raga ovviamente ha da craftare tutti i vari lingotti della mystical agriculture e questo non sarà facile non sarà assolutamente facile perché avrà da fare tutte queste cose e dovrà praticamente craftarle io voglio vedere se più che altro tu stai andando non è che per caso vuole il package extension perché allora forse ne vuole altri due perché effettivamente proviamo a fare così perché non raga io sto andando per tentativi ed errori non la conosco la mod non la conosco assolutamente ho visto alcune cose come per esempio quello dell'ender crafting l'ho provato in creativa e ha funzionato ma il crafting degli oggetti diciamo creativi l'ultimate per esempio non l'avevo provato perché pensavo di aver capito l'antifona diciamo no proviamo così allora innanzitutto chiudiamo il crafting no non questo ah non l'avevo già tolto ok quindi aspettiamo che mi faccia un altro package station e vediamo se funziona questa cosa oppure no cioè dovrò accelerare il video a livello scena ok raga dovremmo avere l'altro extension fluo l'altra package station aspettiamo che uno l'ho lasciato qua no quindi ok ok ne prendi soltanto una mi sembra molto molto strange se io ti potete attacco qua ok se l'attacco qua però rischio che vada in conflitto o se lo potrei fare così così togliere questo metterlo di no mettere togliere questo togliere questo mettere questo di qua questo di qua il crafter lo spostiamo di qua però i vari cosi cables ah si ce l'ho già nell'inventario la branch ok facciamo così togliamo 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 allunghiamo di uno qua andiamo sotto e diamo energia qui ok ragazzi stanno andando molto per tentativi ed errori cioè stanno andando tanto per tentativi ed errori purtroppo non conoscendo la mod capita anche questo allora facciamo così questo lo togliamo perché tanto ci sarà l'altra crafting table subito qui poi importer perfetto ma che ti importa eh a me mi importa tanto allora vediamo un po' eh in teoria dovrebbe funzionare proviamo a vedere se me lo crafta adesso no raga mi spiace ma non ho capito come funziona questa cosa qua devo studiarmela devo studiarmela e vedere un attimino riuscire a capire quale cacchio è il problema perché non non sto arrivando alla soluzione del problema mentre con l'ender crafting era molto easy cioè era molto facile capire come funzionava l'altro è un casino perché non funziona non funziona ragazzi io vi saluto qua noi ci vediamo alla prossima puntata della project isotherma expert mode